Ciao! Hai mai considerato di acquistare una nuda proprietà? Male! Si risparmia sul prezzo d'acquisto. Sei curioso? Oggi sono a Gorizia e ti faccio vedere un appartamento con tre camere da letto. Sei curioso? Dai, andiamo che te lo faccio vedere! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!